Con due giorni all'alluvione, al cinquantesimo anniversario, Lungarno Torrigiani ce la fa riaprire o ci sono ancora dei tempi tecnici un po' lunghi? Io sono come San Tommaso, finché non vedo non credo e quindi non voglio dire già ora che siamo certamente arrivati a chiudere completamente Lungarno però se penso a qualche mese fa ricordo che in tanti ci dicevano che saremmo stati dei folli a pensare di farcela in cinque mesi in tanti non ci credevano, ci hanno anche in qualche occasione sbeffeggiato, noi non ci siamo preoccupati di questo e ci siamo messi al lavoro Gli operai hanno fatto un lavoro straordinario, siamo praticamente a 35.000 ore di lavoro, mai un'interruzione neanche a ferragosto, neanche la notte, i festivi la dimostrazione di come la città ha saputo reagire, di come in Italia si possono ricostruire, richiudere ferite anche drammatiche causate appunto da disastri naturali Se riusciremo il 4 di novembre a farcela credo che anche il Presidente della Repubblica Mattarella renderà omaggio a questo successo che non è un successo mio ma un successo dei nostri operai, delle aziende, dei tecnici, degli ingegneri, di tutti coloro che si sono impegnati fin dall'inizio per ripristinare completamente Lungarno. Se ce la faremo dipenderà proprio dalle prossime ore, siamo molto vicini, siamo fiduciosi aspettiamo il 4 di novembre che per noi rappresenta una data per tanti motivi come ben sappiamo fondamentale da non dimenticare mai